Un hater è un disagiato, una persona frustrata che non ha una vita propria, che passa le giornate sui social insultando gli altri, che pretende di dare la propria opinione su account di cui non conosce nulla, su argomenti di cui non sa niente, è mediamente ignorante come una capra in genere, è una persona in profondo disaccordo con se stessa, che vive una vita orribile e che vorrebbe che anche gli altri vivessero nella sua stessa dimensione di pochezza e che quando si rende conto che gli viene tolta la possibilità di odiare e quindi di spargere la propria opinione inutile, detta tra l'altro anche spesso in maniera maleducata perché si tratta di persone profondamente ignoranti che amano insinuare, deridere, offendere con una tracotanza ed una cattiveria tipiche delle persone insicure e frustrate, perché chiaramente chi è risolto non ha bisogno di esprimersi in quei termini, che vanno secondo me emarginati, perché l'hater non ti dà la possibilità di discutere, non ha quella permeabilità che serve per apprendere per assorbire anche magari il bene, no? È refrattario a tutto ciò che ha un senso, a tutto ciò che ha una spiegazione, a tutto ciò che è bene e quindi va allontanato perché è pericoloso.